Salve a tutti. Prima di iniziare questo video, vorrei invitarvi anche questa volta a guardare il video, fino alla fine, lasciare like, iscrivervi al canale, guardare gli altri video e condividere. Vi siete mai domandati se ci sono i testimoni di Geova in Grecia? Può sembrare una domanda stupida, ma a un certo punto me lo sono dovuto domandare e vi spiego anche perché. Ce ne sono quasi 30.000, su 10 milioni di abitanti. Sembrano un po' pochi, sarà forse perché è una nazione piccola, ma potrebbe, e dico, potrebbe, essere per un'altra ragione. Io mi sono sempre chiesto come fosse possibile che un greco possa diventare testimone di Geova. Vi spiego perché. In Grecia leggono l'Antico Testamento dalla versione dei 70, cioè la Bibbia tradotta dall'ebraico al greco, 250 anni prima di Cristo, e il Nuovo Testamento direttamente dai testi originali, scritti appunto in greco. Ovviamente il discorso è diverso per chi è figlio di testimone di Geova. Loro infatti hanno la traduzione del Nuovo Mondo anche in greco moderno. Ma che bisogno ce ne sarebbe se i greci parlano già il greco? Sappiamo che ci sono delle differenze tra il greco antico e il greco moderno, ma l'unica differenza notevole è che l'alfabeto anche se si scrive allo stesso modo si pronuncia. Diversamente, per il resto, diciamo che tra greco biblico e moderno c'è grossomodo la stessa differenza tra l'italiano di Dante e quello odierno, oppure tra l'inglese di Shakespeare e quello odierno. Quindi non è molto difficile per un greco moderno mediamente istruito capire la Bibbia in greco antico, così come non è molto difficile per un italiano istruito capire Dante o per un inglese istruito capire Shakespeare. Infatti Dante non viene tradotto nell'italiano moderno, sotto il testo originale, e Shakespeare non viene tradotto nell'inglese odierno, a meno che non vengano parefrasati o spiegati nelle note a marcine. Da sottolineare che il greco della Bibbia dei settanta non è il greco classico, ma una lingua più semplice e comprensibile, e quello del Nuovo Testamento lo era ancora di più. Infatti ricordate il paragone che ho fatto con la lingua di Dante? Un conte capire la lingua di Dante e un altro conte capire il latino, analogamente, il greco biblico non è difficile da capire per un greco dei tempi odierni quanto il greco classico. Finita questa premessa linguistica, è chiaro che chi non è così istruito per leggere la Bibbia ha bisogno di una traduzione nel greco moderno, per cui, in un contesto dove la religione non mette al centro dell'insegnamento lo studio della Bibbia, come nella Chiesa Cattolica e in quella ortodossa, è possibile fare proseliti tra le persone poco istruite, come in Italia, solo che i greci avrebbero il vantaggio teorico di poter leggere la Bibbia in greco. Per cui chi è istruito non dovrebbe farsi ingannare, se fa il confronto con i testi originali. Vi faccio alcuni esempi tratti dal greco, che anche per un moderno sono comprensibili. Innanzitutto chiunque sappia leggere i caratteri greci si accorge che il nome Geova non cede nessuna parte. Nell'Antico Testamento c'era il tetragramma, ma nella traduzione greca è stato sostituito con Signore, si so, ma nel Nuovo Testamento non c'è scampo. La parola Geova non cede nessuna parte, nemmeno Yahweh e nemmeno il tetragramma. Un altro esempio è quello della croce, che in greco è Stauros. Per un greco moderno è certamente croce e non palo. Su questo si può obiettare giustamente dicendo che nel greco classico questo termine poteva anche indicare palo, ma in contesti diversi da quello del Vangelo. Ma un greco moderno, venendo dopo tutta l'evoluzione linguistica per Stauros, intende croce e non si lascia ingannare da questa controversia e dalle finte prove geoviste. Andiamo avanti. Nel prologo del Vangelo di Giovanni il verbo era Dio e non odio con la D minuscolo, non hanno dubbi. Oppure, nell'ultima cena Gesù usò pane levitato, mentre i cattolici e i TDG sono convinti che Gesù avesse usato il pane azzimo. Infatti gli ortodossi usano dei cubetti di pane al posto dell'ostia per l'eucaristia, perché leggono il testo in greco e sanno che quello non può essere pane azzimo. Vi lascio il link a un blog gestito da ortodossi. Per non parlare dei passi dove Gesù si proclama io sono, non possono tirar fuori frasi fantasiose come io mostrerò di essere o io ero o cose simili. Soprattutto nella frase prima che Abramo fosse, io sono, in Giovanni 8 e 58, dove è chiaro che non c'è concordanza tra i tempi verbali. E si capisce che quello è un riferimento al nome di Dio, su cui ho già fatto un video. Infatto nei versetti successivi, viene detto che lo volevano prendere a sassate, cioè lo volevano lapidare per ucciderlo, per essersi proclamato Dio. Ce ne sarebbero altri, ma non ho idea se un greco moderno che non ha studiato greco antico possa rendersi conto delle manipolazioni fatte dal corpo direttivo. Di queste ho già parlato in altri video e soprattutto se ne sono occupati altri youtuber, non c'è bisogno che le ripeta io. Un greco, leggendo la Bibbia nei testi originali, difficilmente si farebbe prendere in giro. Ecco da dove nasce l'esigenza di tradurre la Bibbia in greco moderno, perché se fossero onesti intellettualmente. Se fossero certi e sicuri delle loro idee, dovrebbero permettere ai fedeli di studiare e insegnare la Bibbia in greco antico. Se è vero che la loro traduzione non è manipolata e che hanno ragione loro sull'interpretazione, allora non dovrebbero avere questi problemi. Ma ovviamente non è così. Per il momento è tutto.